Grazie a Sergio Calatroni per aver accettato l'invito per il convegno di studi promosso dalla Scuola di Decorazione dell'Accademia di Belle Arti di Verona. Sergio Calatroni è un artista che ha forse anche per sua formazione iniziata all'interno di un'Accademia di Belle Arti ha avuto un approccio con l'architettura, il design, l'arte sempre integrata e in una dimensione che in quest'ultima stagione conosce un approfondimento maggiore rispetto al valore dei materiali. Quindi in relazione a questa specifica modalità di approccio alla progettualità io comincio a chiederle come lei che è una figura così atipica abbia progressivamente a partire appunto proprio da un'Accademia strutturato un percorso che oggi definisco e ripeto atipico e come questo poi si rapporti all'interno della stagione attuale all'interno della sua cultura dell'arte. Beh i percorsi sono sempre frutto di grande casualità quindi noi siamo frutto di quello che prevede la vita nelle sue forme mirabolanti e speciali quindi sono una serie di appuntamenti che avvengono per caso e che ti formano questo vale anche per me quindi facendo un viaggio ritroso non posso se non cercare di mettere a fuoco delle situazioni che mi hanno portato a quello che sono oggi in questo preciso momento in cui parliamo quindi una specie di evoluzione progressiva di casualità e poi se vuole con una certa capabilità o cociutaggine il tentativo di mettere a fuoco il perché di questo ritrovarsi a zigzagare tra le casualità e io chiamerei il percorso dell'esistenza questo quindi ci sono delle cose abbastanza chiare delle cose assolutamente non chiare ed è un'indagine che continua e il fare arte che ritengo così una formula riduttiva di definire percorso è il tentativo di cercare le origini è quello che l'uomo fa è la grande avventura della ricerca delle origini quindi quella che è avvenuto diciamo 70.000 anni fa con Neandertal quando si prende il tempo e la voglia di tracciare i primi segni sulle caverne quando ha a che fare con l'esistenza che è abbastanza tosta probabilmente si chiede la stessa cosa quindi biologicamente l'uomo non è strutturato per disegnare dei quadri o parlare di Dante o recitare le poesie del Petrarca ma è di sopravvivere biologicamente quindi quando comincia a fare qualcosa che non è questo di estrema utilità di cui la natura l'ha attrezzato sta succedendo qualcosa di diverso sta cominciando a succedere quello che è la grande avventura dell'umana quindi il ricordo il ricordo come credo, come definizione potrebbe essere il tentativo diciamo di salvagente della sopravvivenza quindi il percorso che lei ha fatto quindi che è partito dicevo all'interno dell'accademia poi si è evoluto cioè si è trasformato ha accolto altre esperienze che oggi legge alla luce di una visione più esperienziale più esistenziale quindi conclamando un orientamento che era già presente dagli inizi della sua ricerca questa visione intima la restituzione della qualità dei materiali della memoria dei materiali la sua spiritualità sono componenti che sono sempre esistite all'interno della sua esperienza però ripeto io rimando a una stagione che l'ha vista coinvolta invece in maniera rafforzata carica rispetto al valore espressivo dei linguaggi dell'arte che si contaminavano l'un l'altro c'è stata questa stagione beh sì ci sono tantissime stagioni per quello che mi riguardano come ripeto ogni mezzo è buono per trovare una risposta a questo interrogativo di cui parlavo prima ma quindi nello specifico bisognerebbe entrare nello specifico perché si usa una materia o perché si usa un linguaggio o perché si poi determina probabilmente magari anche in casi più di grande lucidità una teoria e il fatto sono degli strumenti che servono diciamo sono utili al momento per per esprimersi quindi per trovare per indagare quindi ogni stagione ha i suoi strumenti perché poi si affilano e poi come tutte le cose diventano obsoleti quindi ogni stagione ha a disposizione un tot di un parco strumenti che vengono usati e poi magari vengono riusati o abbandonati o gettati perché non servono più quindi io vedo il linguaggio che è una questione molto articolata perché poi bisognerebbe entrare diciamo nei dettagli sono come dicevo quelle possibilità al momento per potersi esprimere per cercare di far luce ecco quindi non ce n'è uno preferenziale ce ne sono tanti che che nel mio caso parlando di adesso bisognerebbe semplificare quindi io sono arrivato ad oggi in questo viaggio che va verso la mia fine diciamo che ho capito che le risposte più importanti sono fatte poi di sono molto semplici nella loro complessità quindi servono strumenti molto 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 semplici quindi sono per una specie di semplificazione della strumentazione necessaria mentre magari in passato avevo bisogno molto di più o di fare più cose per esprimermi quindi l'espressione come tentativo di ricerca del sé ecco adesso siamo in una fase di grande riduzione di sintesi in un certo senso cioè la speculazione si è fatta più affilata ecco quindi vedo il tutto sempre in una complessità non riesco a separare questo grande magma dal discorso della materia il simbolo l'opera è comunque un simbolo è già una dichiarazione molto precisa di un di un racconto complesso non è casuale quindi le opere nascondono è un po' come la galassia si 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 nascondono delle delle complessità che al momento sfuggono anche all'operatore quindi noi siamo sempre in ritardo siamo un po' come la luce delle stelle siamo un viaggio nel passato quindi quello che io vedo attraverso quello che faccio è qualcosa che è già esistito prima cioè al di là di quello che io riesco a capire esattamente quindi mi è difficile anche ragionare così lucidamente sul mio percorso ecco io vorrei un attimo porre l'accento su un un aspetto che poi ha determinato la l'idea di realizzare questo convegno una riflessione sulla decorazione intesa come molteplicità di azioni di processi che accompagnano la creatività e che funziona oppure quale riflessione fa in merito rispetto al suo lavoro la sua esperienza diretta il suo lavoro che è caratterizzato da una così ampia gamma di funzioni di ruoli di contaminazioni beh come dicevo prima l'introduzione del mio diciamo del mio discorso è che il segno è di un'importanza fondamentale cioè il primo segno quindi decorazione io lo vedo come una specie di non decorazione onoreficenza ma è un inchinarsi alla complessità e al rito del fare quindi ha un valore enorme ha un valore sacro come intendevo prima quindi quando l'uomo traccia sulla caverna con un ossido di ferro il rosso lo sottrae al suo tempo di caccia o di esistenza sta facendo qualche cosa che viaggia nel tempo sta cercando le sue origini quindi il segno per me ha una valenza istica una valenza sacra una valenza magica una valenza enorme quindi va adoperato va trattato va avvicinato con una cautela e con una dedizione totale quindi è una forma di preghiera se vuole è una forma di riflessione è uno strumento che ha un potere enorme quindi il primo segno quindi può essere il puntino su un su un foglio può essere il graffio su una roccia può essere anche il minimissimo ecco perché può essere se vuole non lo vediamo spesso se vuole così con l'esemplificazione nel mondo dell'arte se lei vede i lavori del monohan giapponesi questo ritorno alla natura però io è un ritorno alla natura non nel fatto di identificarsi con essa ma respirare insieme quindi è un fatto di riflessione cosciente continua direi il segno come meditazione ecco come inizio poi poi viene tutto il resto poi può diventare complesso può diventare molto complicato però partiamo da questo primo gesto l'incontro con la dimensione estetica e filosofica della cultura nipponica hanno dato una svolta alla sua ricerca sicuramente hanno avuto un impatto molto molto forte no intestendola con la dimensione della quotidianità che pure è presente all'interno del suo lavoro potrebbe raccontarcela potrebbe raccontarci il valore di questa esperienza e quanto abbia influito all'interno della sua ricerca è stata una specie di acceleratore il mondo orientale dovevo contrapporre se vuole la simmetria il straordinario pensiero nostro che poi deriva dal pensiero greco che è straordinario quello che mi ha formato nella prima fase e che poi è stato diciamo controbilanciato nella seconda parte dell'esistenza dal pensiero orientale che ha rimesso in pista le possibilità di ricerca in un modo più complesso quindi ha sviluppato la sensibilità per se vuole per la relazione con l'inanimato molto di più di quello che avevo alle origini con la mia cultura ha sviluppato un tipo di ragionamento che è molto molto più passivo che potrebbe essere definito come diciamo la filosofia dell'attesa però i due pensieri continuano a lavorare insieme e continuano a darsi una mano per cercare di capire diciamo non c'è ne uno che vince sull'altro c'è una specie di fortunata integrazione ecco e forse era necessaria e per questo che sono capitati in Giappone sentire la necessità di un'altra possibilità di pensiero però poi mi rendo conto che sono infinite le possibilità se lei si sposta poi va a abitare non so a Varanasi avrebbe a che fare con un pensiero completamente diverso ma è altrettanto interessante quindi è stato anche qua il caso che mi ha portato in Giappone forse c'era una predisposizione forse è anche una scelta perché in India poi sono stato tante volte appunto in questi giorni sto rivedendo dei lavori dei viaggi indiani però lì non mi sono soffermato probabilmente la cosmologia indiana è troppo vasta rispetto alla mia necessità di sì e quindi il Giappone funziona molto meglio perché mi dà un azzeramento più totale rispetto a quello che abbiamo detto in precedenza e quindi la riporto nuovamente all'idea di questo convegno questo nostro incontro verrà inserito all'interno di una sezione che noi abbiamo chiamato tra progetto e antiprogetto richiamando una questione storica che ha visto appunto contrapporsi la progettualità con una dimensione invece più allargata una percezione più allargata della creatività mi riferisco ai presupposti che dagli anni 60 fino al 75 hanno visto per esempio come Firenze dar vita a realtà mi riferisco ad Archizum a Superstudio sebbene lei generazionalmente non sia in relazione con diretta antico con quella stagione però vorremmo sentire un suo pensiero in merito come si posiziona la sua idea di progettualità rispetto al progetto costituito e a un antiprogetto ma non vedo di buon occhio il fatto di riflettere su qualche cosa e qualcosa anti questo lo trovo diciamo dispersivo in un certo senso il materiale sub-ragionale è vasto e il porsi in modo così preciso anti qualche cosa lo trovo abbastanza pericoloso perché poi anche la cosa più negativa antiprogetto lo leggo come qualcosa di negativo in un certo senso che non è è una dichiarazione storica un'enticata storica che viene data a qualcosa che viene fatto in modo diverso e ben venga tutto quello che è fatto in modo diverso è necessario perché ti apre le porte qualche cosa di sconosciuto e metti in gioco quello che sai quindi quando metti in gioco quello che sai e in primis la certezza sei sulla strada buona quindi gli amici dei radicali per esempio che poi hanno sono personaggi che nascono attorno agli anni sono 41 quindi sono attestati a 80 anni di età quindi non so la Pobinazzi Dea Branzi il caro Ugo la pietra è una gente che ha fatto un percorso straordinario è importantissimo per la progettazione perché ha messo in discussione certe cose ha formulato certe ipotesi che hanno poi aperto la strada ad altre possibilità è un po' come la scienza cioè uno parte con un'idea e poi la rivede completamente e nel caso migliore la distrugge cioè brucia il ponte davanti e non dietro quindi il ricercatore secondo me è qualcuno che mina continuamente il suo sapere per trovare un avanzamento quindi non parlerei di antiprogetto ma parlerei di persone che si mettono a riflettere sulle altre possibilità che il mestiere può riservare quindi profondamente e lo fa in un modo completamente meraviglioso perché c'è un rischio esistenziale quindi quando poi chiamiamole le avanguardie questi messaggeri del nuovo questi guerrieri del nuovo si mettono a lavorare non hanno nessuna sicurezza economica non hanno borsi di studio non sono professori di università quindi si pongono in una maniera completamente libera e veritiera rispetto alla ricerca è quello che dovrebbe essere il ricercatore lo fa al di là da una protezione qualsiasi poi diventa storia e poi diventa museo e poi diventa qualcosa da ricordare come qualcosa di importante ma nasce come pura necessità di scoperta quindi vedrei poi la parola i termini sono molto importanti ecco dovrebbe cercare di formulare delle parole ad hoc e non tanto delle lapidi come non so transavanguardia oppure surrealismo ci servono per definire ma troppo spesso poi diventano delle reti che ci impigliano ecco e ci impiglia il discorso poi filologico filosofico per cercare di interpretarle qua la situazione di età complessa bisogna avere il modo migliore cercare di trovare dove sta l'essenza delle cose per poi servirci nel modo migliore ecco io sono per una forma di semplificazione che non vuol dire riduzione vuol dire andare all'osso cercare di capire veramente quello che serve per accelerare la conoscenza bene ringrazio Sergio Calatroni per questo suo intervento lucido e mirato e a presto grazie buona giornata e saluto tutti i colleghi arrivederci a presto illustre architetto la pietra l'accademia di belle arti di verona è davvero onorata per la sua partecipazione al convegno su decorazione territorio dei confini indefiniti all'interno di un capitolo preciso quello tra progetto e antiprogetto con un titolo che rispecchia la sua prestigiosa e interessantissima ricerca abitare essere ovunque a casa propria va ricordato che nel 2000 circa lei ha introdotto nell'accademia di belle arti il dipartimento di progettazione artistica per l'impresa per coltivare come lei stesso ha affermato una categoria che non è né industria né design ha detto e su questo importante passaggio le chiederei una precisazione mentre raggiungiamo le immagini beh diciamo che è una delle cose importanti su cui mi sono molto impegnato anche se non è proprio il mio ruolo perché io mi considero un artista ma mi sono sempre molto impegnato su un fronte che è quello di riuscire ad individuare o far capire l'esistenza di un territorio che non ha molti confini effettivamente come le discipline tradizionali cioè architettura l'arte piuttosto che la fotografia eccetera c'è un territorio che possiamo definire che non è né design né arte ma che possiamo chiamare artigianato artistico diciamo che è un territorio che non avendo confini e quindi non avendo dei paletti è un territorio abbastanza difficile da individuare però è anche il suo pregio è il pregio di quel territorio che praticamente forse è l'erede di quella che era una grande disciplina che un tempo si chiamava appunto decorazione cioè una disciplina che si occupava appunto di sviluppare quelle categorie artistiche che però diciamo rientravano in un territorio che noi possiamo oggi chiamare appunto un territorio che io definisco fatto ad arte cioè legato alle capacità e alla disponibilità dell'individuo di riuscire a coniugare sia la parte artistica che a quella delle cosiddette arti applicate ecco questo territorio è la parte diciamo più difficile per me come impegno naturalmente tutto questo si è sviluppato parallelamente a un altro filone di lavoro che qui lo vedete attraverso anche queste immagini cioè il mio il rapporto tra l'individuo e l'ambiente tra l'individuo e l'ambiente urbano che è un rapporto sempre molto difficile e complesso e che negli ultimi diciamo 30-40 anni ha avuto diverse vicissitudini che poi magari lei sottolineerò con alcuni passaggi ecco questo è un po' il percorso diciamo di lavoro più facilmente riconoscibile in quanto io come artista ho operato all'interno di questi ambiti naturalmente più come ricercatore come un ricercatore attento e come osservatore e come tale mi sono impegnato anche nel costruire e nell'individuare alcuni problemi che sono quelli che affliggono la nostra società naturalmente problemi di carattere ambientale e carattere sociale certo questo è un po' diciamo la premessa a quello che può essere il corso di lavoro che è facilmente che è difficilmente riconoscibile in quanto molti mi riconoscono come architetto designer artista poi come docente ho fatto tanto cinema ho anche suonato in orchestra per 50 anni quindi voglio dire ho fatto tante cose ma tutto questo è all'interno di un percorso che già all'inizio della mia diciamo carriera universitaria si può dire perché ho fatto l'università io mi sono laureato con una tesi che si chiamava sinestesia tra le arti cioè cercavo di spiegare che il tempo dell'integration des art era finito e si doveva passare in un'epoca in cui c'era questo passaggio tra una disciplina e l'altra con una caratteristica che è quella della sinestesia che è ciò che è acuto all'audito è aguzzo al tatto questo è un concetto sinestetico quindi le discipline rimangono diciamo nella loro identità ma le esperienze di una disciplina si travasa in quella dell'altra e dell'altra ancora e dell'altra ancora ecco questo è il mio percorso certo in questa sua plurideccionale e pregevolissima attività di ricerca come lei ha sottolineato in tutti questi passaggi molto interessanti ha creato un importante fil rouge come lei anticipava tra tecniche materiali soggetti interpretazioni ma anche ambienti e piazze e tutto questo con profonde riflessioni che poi hanno portato alla creazione di importanti e ricche collezioni di oggetti e installazioni che abbiamo visto nelle sue esposizioni più importanti cito per esempio tavolo mediterraneo del 1992 esposto all'atrenale Milano tradizione rinnovata sei colonne simboliche collocate invece a Montelupo Fiorentino e poi soggiorno urbano del 2016 fino ad arrivare alla mostra che è tuttora in corso a Palazzo Collicola a Spoleto che ha il titolo di arte e territorio allora a luce di tutto questo le chiedo quali sono i contenuti e gli obiettivi più importanti di questo eccezionale percorso così ricco di successi beh è molto facile diciamo riassumerlo in due parole praticamente è il tentativo di fare dell'arte per il sociale la differenza che ho cercato sempre di sviluppare nel mio lavoro nei confronti anche di altri artisti e di altre correnti di pensiero in questo senso è che esistono due tipi di arte diciamo legate al sociale c'è l'arte nel sociale quando l'artista pone le proprie opere all'interno dalla galleria al museo all'interno della città e l'arte per il sociale che invece è l'artista che lavora diciamo per in qualche modo creando come in questo caso queste colonne che si vedono a Montelupo ecco nascono da che cosa dalla definizione di questo territorio dall'identità e della genius loci del luogo diciamo Montelupo famoso per le sue giare che è famoso per la sua attività nella ceramica e quindi questi elementi partono proprio dai caratteri del luogo e sviluppano all'interno di questi caratteri delle indicazioni che sono in questo caso rinnovamento della ceramica tradizionale ecco questa pratica che io chiamo appunto arte e territorio che è una pratica che si può sviluppare anche all'interno del mondo del design cioè design territoriale vuol dire progettare lavorare cercando di dare al territorio forme e oggetti e situazioni che siano in grado di definire l'identità del luogo proprio come le opere che ho fatto i soggiorni urbani che naturalmente indicavano un modo di sviluppare il rapporto tra l'individuo e l'ambiente cioè dare alla possibilità alle persone di sviluppare la propria identità e la propria socialità il soggiorno urbano è una esemplificazione simbolica del fatto che si può vivere nella città con la stessa attitudine con cui si vive nello spazio privato cioè possedendo lo spazio abitandolo nel senso più tradizionale vero della parola perché gli spazi possono essere usati si usa la camera d'albergo ma possono essere abitati e abitare vuol dire espandere la propria personalità dare identità al luogo è un po' come i progetti che ho fatto anche a Cattolica dove praticamente cercavo di dare alla città che è una città balneare dei simboli degli elementi capaci di dare l'identità di riconoscere l'identità del luogo fatto appunto non solo di simbologie legate alla cultura balneare e alla cultura marinara ma anche prendendo le risorse del territorio come in questo caso si vedono dei soggiorni fatti in pietralecese proprio a Lecce oppure ci sono questi elementi che io chiamo legati alla balnearità dove praticamente le caratteristiche dei materiali anche usati sono la ceramica perché Cattolica è molto vicina a Faenza dove si lavora la ceramica e il mosaico perché a Cattolica si è molto vicini a quella che si chiama appunto la cultura del mosaico che si fa a Ravenna ecco tutti questi oggetti questi ambienti queste sollecitazioni diciamo ambientali e formali portano soltanto esclusivamente a spiegare un concetto elementare che è quello dell'artista che lavora nel territorio per il territorio cioè dando dei segni come in questo caso le colonne con le casette che ho fatto a Pricena che è un luogo dove esiste da sempre la tradizione della lavorazione della pietra per la realizzazione di opere che sono dai castelli medievali fino alle architetture contemporanee questa è un'arte che si può che io preferisco chiamare arte per la territorialità quindi arte legata al genius loci arte legata a un'attività che va verso il sociale cioè va verso una definizione dell'ambiente nel tentativo di dare alla società dei segni che all'interno dei quali la società si riconosce il gruppo sociale o l'individuo si riconosce questo è il senso di questo modo di operare splendide ideazioni tra i suoi memorabili progetti come lei stava citando c'è quello dedicato al ciclo cultura balneare e degli anni eccolo qui 1985 95 quindi dieci anni di lavoro infatti la cultura balneare è stata diciamo un argomento che ho sviluppato per molti anni fondando anche proprio un osservatorio sulla cultura balneare nel momento in cui era riconoscibile in quel territorio una propria precisa diciamo identità e quindi era più facile di altri luoghi dove l'identità è meno evidente ritrovare quegli elementi simbolici che vanno dalla bagnante alla ceramica al mosaico a tutti quegli elementi che caratterizzano sia la simbologia della balnearità sia diciamo i materiali come ho citato prima legati al territorio come il mosaico la ceramica che sono fanno parte proprio della grande tradizione di quel territorio romagnolo o Emilia romagnolo ecco c'è anche questo delizioso particolare che natural il simbolo della tartaruga il simbolo appunto balneare è la tartaruga un classico un oggetto fatto molto bene in ceramica proprio da due miei amici di allora che erano Bertozzi e Casoni due ceramisti bravi che hanno fatto moltissime mie opere e questo è un loro pezzo per la tua mano e qui si vede proprio la tradizione non solo della ceramica fatta a mano ma anche della ceramica industriale con le piastrelle dove Imola è proprio lì vicino il grande centro di produzione industriale della ceramica industriale in questo caso è il mosaico di Ravenna sì certo sì sì penso che il pubblico sia stato affascinato da questa sua realizzazione come ha reagito la gente no non è reagito bene figuriamoci erano altri tempi quella donna nuda che si vede un pezzettino è stato uno scandalo c'è stata un'interrogazione parlamentare perché alcune persone di cattolico dicevano che le donne nude potevano andare bene sulla spiaggia perché ci sono le tedesche che si spogliano ma nella città la donna nuda era un po' una provocazione quindi non è stata al momento le cose sa quando si fanno le opere e si entra nell'ambiente urbano a contatto con la gente la gente prima di riuscire ad assorbire prima addirittura accettare poi far propria le opere passa un certo periodo di tempo è come quando lei ha vissuto a casa sua le opere che erano della sua casa le ha messe il suo padre e la sua madre e lei ha avuto un bel pezzo di vita per poterle possedere anche diciamo mentalmente prima le rifiutava non era non era roba sua ma dopo dopo aver vissuto 5-10 anni nello spazio privato costruito da altri ogni pezzo ogni oggetto diventa invece molto ci si affeziona si si prende possesso ma è questo percorso percorso lento non può essere così fatto da un giorno all'altro e anche in questo caso tutte queste simbologie questi elementi eccetera inizialmente erano diventati elementi provocatori poi lentamente si sono stati sono stati acquisiti ma questo è normale è successo sempre anche nella storia delle grandi opere realizzate nelle città anche nel passato la popolazione la prima cosa che fa è rifiutare l'opera e poi pian pianino la possiede è un percorso classico certo certo allora passiamo a questa stiamo avanti sì lei mi fa vedere un disegno a cui sono molto affezionato naturalmente questo è uno dei primi disegni dell'inizio degli anni sessanta dove io ero pittore e seguivo una corrente di lavoro che chiamavamo un gruppo di artisti si chiamavano pittori senici cioè un po' anche figli di Fontana Lucio e un po' naturalmente i pittori che rifiutavano la materia della la matericità dell'informale e guardavano sempre di più a una invece a una scrittura la capacità di racconto ancora che invece molti artisti volevano dimenticare pensi che all'inizio degli sessanta c'erano gli artisti cinetici gli eccezuali c'erano i programmatici e noi eravamo quelli che invece raccontavano ancora cioè disegnavano e scrivevano e raccontavano con delle forme diciamo simboliche e astratte ma pur sempre in questo senso e questo è stato un percorso che ancora oggi conservo in quanto ancora oggi ho disegno e dipingo e diciamo uso questa mia capacità di scrittura per realizzare delle opere come in questo caso le vede un'opera più complessa c'è la foto c'è il disegno c'è una una scritta anche che racconta di quest'opera che si chiama la città scorre ai miei piedi cioè io sono sopra quel ponte guardo la città che scorre in modo informale come un fiume in piena e io non posso altro che essere un osservatore naturalmente di questo movimento ecco questo è un classico di lavoro dove vengono utilizzate diverse tecniche ma dove si conserva ancora come anche nelle ultimissime mie opere l'uso del segno e della scrittura ecco oltre che della foto del fotomontaggio e di altre tecniche che ho sempre usato per fare le mie opere certo sì sì ecco questo è un quadro che è inizio degli anni 60 dove si vede bene questa pittura segnica cioè questa scrittura veloce rapida e quindi che ricorda molto poi un po' tutto il mio lavoro che è sempre stato un po' nevrotico a dire la verità avendo fatto sempre tante cose troppe cose e avendo suonato il clarinetto come suonatore di jazz tradizionale quindi con l'improvvisazione come base del mio linguaggio e questo è un linguaggio abbastanza vicino al senso dell'improvvisazione e della gestualità percorso interessantissimo e multidisciplinare quindi ancora più prezioso ci sono ulteriori sue testimonianze per questo valore importantissimo della scrittura e del disegno all'interno del suo percorso artistico certo sì questo questo è un discorso molto lungo che in questo momento non possiamo fare perché so che il tempo nostro si sta diciamo chiudendo mi spiace solo però di non poter dire due parole su quell'ultima domanda che lei voleva farmi che è quella legata alla ceramica sì alla mia passione della ceramica e al fatto che praticamente ho sempre sviluppato moltissimo il lavoro attraverso la ceramica ma in questo momento ancora oggi è molto difficile in Italia operare in questo senso perché sia la ceramica sia le arti applicate o l'artigianato artistico nella ceramica trova una difficoltà di espressione in Italia perché come lei sa in Italia non abbiamo né i musei né le gallerie né le istituzioni gli istituti d'arte sono stati tutti chiusi e non ci sono i laboratori insomma è un settore molto sofferto che trova ancora un certo tipo di spazio all'interno di certe realtà diciamo commerciali tradizionali pensi a Caltagirone a Vieto sul mare piuttosto che Faenza dove c'è ancora un commercio legato a un turismo ma da un punto di vista di quella che è appunto una disciplina è un modo di lavorare è un modo anche di procedere è molto difficile perché rispetto al craft europeo noi siamo molto distanti in quanto non solo le istituzioni sono lontane ma anche le persone qualsiasi persona entra in un negozio non sa distinguere la ceramica dalla porcellana non sa che quel pezzo fatto con un po' con una con una una parte in oro vuol dire che è stato cotto in tre fuochi e non in due quindi costa di più di quello fatto con due fuochi eccetera quindi questa nostra ignoranza che va dal basso tra le persone normali all'alto cioè alle istituzioni fa sì che questo settore è un settore molto sofferto dico solo questo e potrei andare avanti per altre quattro ore per raccontare le nostre sofferenze di quelli che si occupano di questa bellissima disciplina che ha sempre raccontato e rappresentato bene nella nostra società nei millenni perché ogni volta che lei prende una ceramica di mille anni fa di 300 anni fa di 700 anni fa lei riconosce tutta la società che ha diciamo che riesce a esprimersi in un piccolo oggetto anche di uso e di consumo come un vaso ecco certo sì sì infatti il settore è in sofferenza anche per questo insomma per tutto quello che lei è ancora più in sofferto perché negli ultimi tempi è preda di tutta una serie di giovani designer che non avendo possibilità di entrare nel mondo dell'industria che è sempre più ridotta si autoproducono e l'autoproduzione è un'operazione abbastanza diciamo praticabile nel settore della ceramica perché l'investimento è relativo cioè se uno va in un laboratorio e chiede a un attenziano di fargli dieci vasetti magari glieli fa sul suo progetto costano poco perché l'impegno magari sono fatti a mano e quindi non c'è bisogno nemmeno dello stampo quindi è un investimento molto relativo e questo questa pratica favorisce naturalmente l'interesse da parte del giovane designer però è un interesse ma sempre molto superficiale perché il designer poi non viene non ha una preparazione legata alla cultura del fare ha una preparazione legata al progetto e gli manca tutta quella conoscenza che lo potrebbe fare diciamo progredire nel lavoro di questa disciplina dove la parte materia e la parte della fattualità è fondamentale capisci certo così si crea un equivoco tra il saper fare la progettazione e il far fare invece sì un equivoco su cui potrebbe profondersi per ore e penso che sia stata anche alla base del suo progetto per il dipartimento di progettazione artistica per l'impresa il dipartimento nasceva proprio nello spirito di riuscire a dare una possibilità intanto è vero che dentro questo dipartimento io ho creato tutta una serie di laboratori ma non come quelli che si fanno nelle scuole che non si possono fare nelle scuole i laboratori ma creando tutta una serie di professori a contratto che non erano solo professori ma anche erano professori avevano il loro laboratorio quindi portavo gli studenti nel laboratorio del professore che lavorava il bronzo piuttosto che il gesso piuttosto che la ceramica o il feltro capisci quindi la scuola era una scuola diciamo universitaria legata all'accademia eccetera ma aveva la caratteristica di riuscire a dare importanza alla cultura del fare creando e mettendo in evidenza le discipline che in questo caso c'erano anche storie dell'arte eccetera ma le discipline dove il professore era un professore che non era semplicemente un professore era uno che aveva un laboratorio di gesso e portava gli studenti nel suo laboratorio e gli faceva fare delle esperienze questo era un po' il trucco che ho usato e che di solito le scuole non usano perché raramente le scuole creano le convenzioni con i laboratori cosa che invece avrebbe potuto essere nel passato e a facendo salvando centinaia di laboratori di gente bravissima che invece ha voluto chiudere perché non avevano nessun tipo di sbocco molto artigianato artistico si è perso laddove le scuole superiori avrebbero potuto mantenerlo in vita attraverso queste convenzioni non è stato mai fatto e si è perso moltissimo in questo senso certo la ringrazio tantissimo è stato velocissimo spero vi sia servito qualcosa vi faccio molti auguri grazie grazie nella speranza e quando qualcuno di voi passerà a Milano sarò ben felice di accogliere nel mio studio e dargli le ultime mie pubblicazioni che in questo periodo mi ho fatti diverse con queste chiusure e mi sono dedicato molto all'attività editoriale grazie verremo con un piacere grazie architetto a presto grazie da parte dell'Accademia di Belle Arti di Verona grazie grazie a tutti grazie